2 per 3, 2 gol per 3 punti. È la formula vincente che l'Unione Calcio Bisceglie applica ai quartieri uniti Bari nel match casalingo della 24esima giornata di promozione. Una rete per tempo, basta e avanza la formazione allenata da Bimo Di Corato per dettare legge sulla terra battuta del Diliddo nei confronti del non irresistibile avversario e per conquistare una vittoria estremamente importante vale infatti il sorpasso in seconda posizione in classifica ai danni del Corato bloccato sull'1-1 in trasferta a Carapelle e permette inoltre all'Unione Calcio di restare a meno 3 dalla capolista gravina. I Murgiani, che hanno ancora da recuperare la partita con il Monte Sant'Angelo, la spuntano nella ripresa a Sampio contro il Giovinazzo e ancora una volta a Medeo Dipinto a fare la differenza in positivo per i biceliesi in termini realizzativi. L'attaccante barlettano rompe gli indugi a metà della prima frazione su calcio di punizione, poi si ripete a 10 minuti dal novantesimo mettendo a segno addirittura il ventunesimo centro della stagione. Turno di campionato favorevole anche al Canosa che batte in trasferta alla Forti Saltamura e alla nuova Molfetta Corsara ad Apricena. Nella parte bassa della classifica continua il momento negativo della Cenerentola Real Bat, sconfitta 5-3 in casa contro il Monte Sant'Angelo. Prossimo turno, non dovrebbe avere particolari problemi a dettare legge in casa la capolista gravina che ospita il Celle San Vito. L'Unione Calcio Bisceglie chiederà strada alla Virtus Bitrito in trasferta per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. In programma tra gli altri incontri anche Corato Altamura, Canosa Apricena, Molfetta Giovinazzo e Liberty Palo Real Bat. In programma tra gli altri incontri anche Corato Altamura, Canosa Apricena, Molfetta Giovinazzo e Liberty Palo Real Bat.